Orientamento consapevole è uno dei nuovi percorsi di formazione a distanza della nostra piattaforma di e-learning destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in uscita, i futuri diplomandi del sistema scolastico italiano. Orientamento consapevole è un percorso che segue i nuovi dettami indicati dalla comunità europea in questioni relative all'orientamento. Il percorso è incentrato sull'apprendimento autonomo per fare acquisire agli studenti in autonomia le capacità e le competenze trasversali previste dal nuovo piano di orientamento. Tali competenze trasversali sono le cosiddette soft skills, ovvero competenze quali team working, leadership, project work, comunicazione, pensiero positivo e tante altre previste nel piano. Orientamento consapevole consentirà quindi agli studenti italiani di seguire un percorso in autonomia ma completamente verificato, controllato con i sistemi legati alle competenze di una piattaforma di learning di nuova generazione. Saranno riconosciuti quindi certificazioni in uscita ma anche i badge sui principali piattaforme che riconoscono appunto questi badge sulle competenze trasversali. Per i ragazzi sarà un'esperienza sicuramente entusiasmante e innovativa in quanto praticheranno queste attività sulla piattaforma di learning in maniera partecipativa. Ci saranno tutta una serie di percorsi previsti ad hoc per ciascuna di queste competenze trasversali che consentirà loro di capire quali sono i loro punti di forza e di debolezza rispetto alle singole competenze ma anche capire come possono allenare queste competenze. Inoltre sono previsti dei brevi video tratti da scene significative di film internazionali in cui vedranno proprio quella competenza agire in maniera positiva o in maniera negativa nel corso del film. Quindi non so, la competenza sulla leadership vista in maniera positiva o negativa o piuttosto che la competenza legata al team working, al project work. Tutto questo consentirà agli studenti di cimentarsi sulle principali soft skills e quindi di capire quali sono i loro punti di forza e quali sono i loro punti di debolezza ma allo stesso tempo potersi allenare e autovalutare cioè allenare per accrescere le loro capacità nell'utilizzo di queste soft skills e così poter meglio impiegarsi sul mercato del lavoro. In effetti ormai le principali società nazionali e internazionali quando cercano i dipendenti considerano molto tali competenze trasversali per cui diventa fondamentale avere una base su queste competenze. La nostra piattaforma di learning con questo percorso di orientamento consapevole intende effettuare quindi sperimentazioni con i ragazzi per capire come poterli aiutare al meglio e quindi speriamo che col tempo e con le esperienze che faranno i ragazzi di poter accrescere la performance di questo percorso per poter aiutare sempre di più e sempre meglio gli studenti in uscita dal sistema scolastico secondario italiano.